Orietta Berti non ha ancora debuttato come opinionista del GF VIP 7, ma ha subito qualcosa da ridire all'ex concorrente del reality show Mancano ancora diversi giorni all'inizio del grande fratello VIP 7, l'ultima edizione del reality show di Canale 5 Ma Orietta Berti, uno dei volti nuovi della trasmissione, fa subito parlare di sé Orietta Berti e Alex Belli, Instagram, la cantautrice Emiliana prenderà il post di Adriana Volpe nello studio di Mediaset, con il ruolo di opinionista fissa nella prima serata di Canale 5 Orietta è ben voluta da tutti nel mondo dello spettacolo, per il suo carattere aperto, generoso e simpatico Ma la donna non ha perso tempo e subito lanciato delle frecciatine ben precise In particolare all'indirizzo di un paio di vecchi concorrenti del GF VIP, che a suo dire hanno esagerato nel farsi notare e far parlare di sé Orietta Berti ce l'ha con la coppia Belli-Duran, ecco il motivo in un'intervista al Magazine Mio, per parlare proprio della futura avventura televisiva, Orietta Berti non si è nascosta Ha puntato il dito verso la coppia Alex Belli e Delia Duran, ex concorrenti del GF VIP sei molto chiacchierati La Berti ha fatto sapere di non essere così d'accordo con i loro atteggiamenti pubblici, lo sdoganamento dell'amore libero che, a suo parere, non è una loro esclusiva, l'amore libero c'è sempre stato Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale Delia Duran e Alex Belli, Instagram Dunque per Orietta Berti la colpa dell'attore e modello italiano e della sua compagna sudamericana è quella di aver vissuto solo di gossip, spingendo ed enfatizzando sul Menage Atrua che ha visto protagonista anche Soleil Sorge Alex Belli però non prova assolutamente a credine nei confronti della cantante L'ex Vipone infatti ha pubblicamente espresso il proprio apprezzamento a Alfonso Signorini per la scelta di Orietta come nuova opinionista, credo sia una scelta azzeccatissima, Orietta Berti ha esperienza e carisma, rappresenterà perfettamente la voce del popolo E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video